Mx double struggle, dance with double struggle, nino pompa il beat, poppy con nino, house con sparta, hip hop con rex, new jack swing, hip hop 90s con man Bella lì Tetris dopo struggle a presenta, vedete qui abbiamo gli stage con Mr. Take One, Mx, Rex e sparta con tutti gli stili, che dire, dopo struggle in the house Ciao ragazzi, volete avere un fisico tonico? Come, no, sparta no, come master x, nino, daffi, squeno, aleandro, di tavo struggle diciamo Ciao ragazzi, come me? Venite a fare zumba, zumba, con sparta, con sparta, guarda, zumba Ciao, da buon strato, bella da buon strato, la buon strato, la buon strato, la buon strato, la buon strato in school Guarda che è un video, Ricky, è un video? Ciao mamma Se donna, dava strago, baseball, per esempio, a questo è Rex, bravo, non è Bello,ole bravo, a Rex è bravo Musica 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 la seconda edizione, questo è quello che vi state perdendo perché siete a casa a portare sul divano a guardarvi tele tappi se tu un cinopio un bel evento, un bel evento Ciao ragazzi, bentornati a Nancy with Double Struggle seconda edizione, come ho detto l'altra volta qua ovviamente si impara, ci si diverte e niente, ci sono tante lezioni, ci vediamo alla terza edizione a questo punto a dire di sì a dire di sì, ok, vado, ah, mi dimenticavo una cosa, si vola ai 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 Oh, ho, 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 ho!